Scusate Guardi che non va più, prendi, è troppo forte, dai 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 dai, è troppo bella per lei, adesso viene dietro facendo qualcuno, la sensabilità non va, sta la gente davanti? Tutti fotografano quello lì, ma ci coprono, c'è uno, 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 c'è uno. Mamma, se ci sono quei due là, vai più lì, no? Ma più lì cosa vai più lì? Non vai, non vai, non ce la fa andare. E ma si mette qui davanti.